Musica Pronti a colpire Porto, Aeroporto e Ipercop erano gli obiettivi sensibili nel mirino dei presunti terroristi afghani fermati dalla DDA barese. Le accuse si basano su foto filmati ma al momento non ci sarebbe alcuna intercettazione. Il procuratore capo Volpe non ci risulta assolutamente che sia imminente un attentato in Italia. Terrorismo, quel selfie con De Caro sul cellulare di uno dei fermati spunta una fotografia con il primo cittadino scattata durante la marcia degli scalzi organizzata in favore degli immigrati. Il nostro focus sull'operazione della DDA di oggi. Guerriglia sul lungomare, abusivi sotto scacco, al baglio delle forze dell'ordine e la posizione di molti dei partecipanti agli scontri di ieri. Il questore promette, arriveremo alla denuncia di reati piuttosto gravi. Il nostro live dalla zona dei tumulti. SOS, borse di studio, protesta degli studenti per i ritardi nell'erogazione. Emiliano promette, chiederemo risposte al governo. Buonasera in diretta dalla redazione di Telebari. Come sempre saremo in vostra compagnia per un'ora per raccontarvi quello che è accaduto oggi nella nostra città e commentarlo con i nostri ospiti. Apriamo con l'operazione antiterrorismo. Pianificavano attentati in luoghi sensibili di Bari ed altre città europee. I carabinieri del comando provinciale di Bari e del ROS hanno fermato tre soggetti di nazionalità afghana, più altri due che favorivano la tratta di persone. Roberto Manci. Pianificavano attentati terroristici a Bari e fornivano sostegno logistico per l'immigrazione di clandestini. Tre soggetti di nazionalità afghana sono stati fermati dal personale del comando provinciale carabinieri del ROS, l'accusa principale di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, assieme a loro altri due giovani di nazionalità pakistana e afghana che collaboravano in vario modo alle attività del gruppo. Il provvedimento scaturisce da un'indagine del nucleo investigativo e della sezione anticrimine avviata lo scorso 16 dicembre. Una pattuglia della compagnia di Bari-San Paolo aveva notato quattro persone, due delle quali ospiti del CARA, che effettuavano riprese in un affollato centro commerciale barese. L'attività investigativa ha permesso di accertare come uno dei soggetti regolarmente in Italia mantenesse costanti collegamenti telematici con siti segreti inneggianti alla GIAD. Dall'esame successivo degli smartphone dei fermati emergeva corposo materiale fotografico di siti sensibili della città, come l'aeroporto, o foto con armi, assieme ad essi file musicali comunemente usati dai terroristi per la preparazione al martirio. Disponevano inoltre di numerosi contanti utilizzati per spostamenti frequenti in aereo verso le principali capitali europee. A coordinare l'indagine è stata la procura distrettuale antimafia nella persona del sostituto Roberto Rossi. Queste indagini sono molto complicate perché bisogna stare attenti, in una parte, a non vivere sul sospetto. Delle persone fanno delle fotografie non perché sono pakistani o afghani, sono dei disonesti. Però il problema è questo, che partendo da tali elementi poi siamo andati a verificare all'interno dei telefonini e trovevamo quasi solamente foto nelle quali venivano mostrati. E il porto di Bari, e l'aeroporto di Bari, e il porto di Londra, e i centri commerciali. Cioè foto dove i turisti, diciamo, in genere non fanno foto. Normalmente le indagini in materia di terrorismo, e a Bari ne abbiamo diverse purtroppo, parlo di terrorismo internazionale, nascono da segnalazioni che i servizi fanno alla polizia giudiziaria che poi informa la procura distrettuale antiterrorismo, e da qui nascono le attività investigative. In questo caso non c'è stato alcun intervento e nessun input da parte dei servizi. Il merito di questa operazione va ascritto soltanto ai carabinieri di Bari. E saranno celebrate giovedì a Bari e a Milano le evidenze di convalida. Dei tre fermi eseguiti oggi su disposizione della DDA di Bari, uno per terrorismo internazionale, due per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. In particolare saranno interrogati a Bari il 23enne afgano, Akim Nasiri, accusato di terrorismo internazionale, e il 29enne afgano, Gulistan Abbasdai, accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Nella più ampia indagine della magistratura barese, su una presunta cellula di terroristi, si ipotizzero che i tre fossero pronti a preparare attentati in Italia e in Inghilterra. Interviene anche il ministro Alfano sull'operazione di oggi. Il nostro lavoro di prevenzione contro la minaccia terroristica si basa anche su una forte attività investigativa. Dopo un lungo lavoro di indagini, oggi abbiamo raggiunto un altro successo a quelli della nostra squadra di Stato, grazie all'eccellente lavoro dei carabinieri del nucleo investigativo e del ROS di Bari. Si è espresso così il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, sull'operazione. Le nostre leggi antiterrorismo, conclude il ministro dell'Interno, funzionano. E la sicurezza dei cittadini in questo particolare momento, in cui nessun paese è a rischio zero, è una priorità di questo governo. E cambiamo argomento, torniamo sulla guerriglia di ieri sul lungomare. C'è stata una vera e propria battaglia tra lo Stato e alcuni gruppi criminali. Il sindaco De Caro commenta la guerriglia urbana, che ieri sera ha terrorizzato tutte le persone che si sono riversate sul lungomare di Crollalanza per i festeggiamenti in onore di San Nicola. Gli aggiornamenti da Serena Lusso e poi le parole del questore di Bari, Carmine Esposito. Ieri c'è stata una vera e propria battaglia tra lo Stato e alcuni gruppi criminali, perché non vorrei che qualcuno pensasse che ieri c'è stata una battaglia tra la nona e gli abusivi e gli irregolari. Ci sono in questa città purtroppo dei gruppi organizzati che anche sulla festa di San Nicola hanno suddiviso il territorio, il lungomare, per clan. Ce n'è uno che va dall'Albergo delle Nazioni fino a Largo Giannella, poi ce ne sono altri due gruppi che coabitano tra Largo Giannella e il Teatro Margherita e poi c'è un altro gruppo invece che controlla le attività dal Margherita fino al Porto. E controllano non solo le attività degli irregolari, ha aggiunto il sindaco, ma anche quelle delle persone a norma. È una battaglia, ha detto ancora De Caro e ieri l'ha vinta lo Stato. E intanto arriva il primo bilancio della guerriglia urbana, cui tanti, troppi cittadini baresi hanno assistito sul lungomare di Crollalanza ieri sera. Polizia di Stato e Polizia Municipale hanno arrestato per violenza e resistenza pubblico ufficiale Cleto Caprioli, barese di 28 anni con precedenti di polizia. Nel corso degli scontri un'altra persona è stata sottoposta a fermo di identificazione. Un poliziotto e tre agenti della PM invece, i feriti, fortunatamente non gravi, se la sono cavata con lievi contusioni. Ma ieri sera poteva andare molto peggio. Rimarrà negli anni una celebrazione macchiata dal panico della gente, dalle centinaia e centinaia di baresi in fuga dalla festa per il loro santo patrono. E anche chi ha scommesso sulla legalità oggi è scosso. Mimmo Loiacono, organizzatore del Villaggio del Gusto, da ieri mattina sotto assedio degli abusivi, ha risposto così quando gli abbiamo chiesto se se la sentirà il prossimo anno di ripetere questa esperienza. O lei l'anno prossimo riscommetterebbe sul Villaggio del Gusto? Noi ci abbiamo sempre creduto, crediamo nella valorizzazione dei prodotti del territorio. E' chiaro che queste situazioni ti avviliscono. Vediamo di aprire un dialogo per capire come realizzarlo, se realizzarlo anche per l'anno prossimo. Le forze di polizia non si sono lasciate intimorire. Non hanno, come dire, con un intervento sicuramente calibrato, sono riusciti a gestire una situazione sicuramente difficile e che ha visto poi la conclusione nell'arresto di uno dei dimostranti, uno dei fascinorosi, peraltro con precedenti specifici, il fermo di un'altra persona con attività ancora in corso per la sua identificazione. Il sindaco, ai nostri microfoni, ha dichiarato quella di ieri non è stata una guerra tra la nona e gli abusivi, lasciando intendere che dietro c'è l'ombra dei clan. Guardi, io penso che non è una guerra questa. Il sindaco riafferma un principio sacrosanto che la legalità non può essere negoziata, non esiste una negoziazione sul rispetto della legge. La legge ovviamente va rispettata, va adeguatamente, come dire, anche interpretata, in buona parte si potrebbe dire, ma quello che è la violazione della legge non può essere consentita. E tra poco ci collegheremo con il lungomale di Conoralanza nei pressi del Ciringuito, dove ieri, lo avete già sentito, si è verificata una vera e propria guerriglia con gli abusivi. Andiamo avanti, il ferimento di alcuni agenti, fortunatamente senza gravi conseguenze, avvenuto durante i disordini, la tarda serata di ieri, la prova è evidente che la polizia locale opera sempre in prima linea, ma è arrivato il momento di riconoscere il lavoro sempre più arduo svolto dagli operatori della polizia locale. Lo scrivono in una nota congiunta i sindacati che chiedono per gli operatori della polizia locale le stesse tutele delle altre forze dell'ordine, tutele fondamentali come eco-indennizzo e causa di servizio per dare risposte ai familiari di coloro che attendono notizie della fine delle operazioni di servizio dei propri congiunti, viste le preoccupanti e sempre più gravose attività che sono chiamati ad assolvere. La carenza di personale amministrativo danneggia gravemente anche e soprattutto il diritto di difesa dei cittadini. E' quanto dichiara il presidente della Camera Penale di Bari, Gaetano Sassanelli, intervenendo sulla questione sollevata nei giorni scorsi dal procuratore capo di Bari, Giuseppe Volpe, che ha inviato una lettera a Ministro Orlando. Sassanelli sottolinea che non basta fare sentenze, ma bisogna fare sentenze giuste e per questo l'esercizio dell'azione penale deve essere un percorso nel quale il cittadino abbia la possibilità di difendersi compiutamente. Cosa che non può avvenire se le cancellerie, non per colpa o per volontà dei cancellieri, sono spesso chiuse, conclude l'Avvocato Sassanelli, perché il personale scarseggia. Cambiamo argomento e torniamo a parlare della TAP, che possiamo considerare uno sfregio alla Puglia, tutto il sistema economico, nessuna azienda della regione è coinvolta nella realizzazione della maxi opera a causa dei criteri troppo restrittivi. Alla faccia della tanto svanierata opportunità che la TAP avrebbe dovuto rappresentare per il territorio, su questo abbiamo sentito il parere del presidente di Confindustria Puglia, Favuzzi. Da pochi giorni è stato presentato l'avvio dei lavori di TAP, suona un po' strano come nonostante sia stato più volte sbandierato il coinvolgimento delle imprese locali, di fatto le imprese locali non ci sono. Questo è l'effetto di due cause distinte. Il primo è che su questi grandi appalti i grandi committenti spesso hanno dei requisiti di accesso agli abbi fornitori alle gare estremamente sofisticati e complessi. Il secondo è che spesso, purtroppo, anche noi come imprese locali del territorio non svolgiamo correttamente un'attività di aggregazione, di creazione di reti per rispondere al meglio a questi requisiti e a questi banti. Un po' ci dispiace sulla TAP perché in parte erano dei processi che erano stati già in qualche modo annunciati, queste difficoltà si sapeva che ci sarebbero state. Dall'altro, purtroppo, c'è stata poca iniziativa da parte anche delle stesse associazioni, da parte di noi stessi e da parte degli imprenditori, di creare quelle aggregazioni che potevano provare a giocare un ruolo più importante. Poi speriamo che comunque, attraverso il meccanismo di subappalto, ci potrà essere comunque il coinvolgimento, anzi questo lo chiediamo in maniera forte, che ci sia comunque il coinvolgimento delle aziende del territorio. Adesso parliamo della protesta degli studenti per i ritardi nell'erogazione delle borse di studio. Un corteo di universitari ha raggiunto il palazzo della regione per incontrare il presidente Emiliano e l'assessore Sebastiano Leo che hanno annunciato, chiederemo risposte al governo e intanto gli studenti continuano a pagare rette e mense. Sentiamo. Da più di un mese ci sono ragazzi universitari che hanno vinto borse di studio ma che ancora non le hanno viste. Oggi avete protestato, basta. Sì, praticamente sotto un comitato chiamato appunto Uniti per il diritto allo studio universitario i ragazzi dell'Università di Bari, precisamente tutti i beneficiari di servizi ad ISO, si sono stancati e hanno deciso di far sentire la propria voce. Attraverso un corteo, una manifestazione, una mobilitazione ci siamo mossi verso la sede della regione per protestare ad alta voce per i nostri diritti che ci sono stati insomma sono venuti a mancare da più di un mese a questa parte. Lì avete incontrato l'assessore al diritto allo studio Sebastiano Leo, che cosa vi ha detto qual è stata la sua risposta? Allora noi innanzitutto abbiamo cercato uno stimolo, abbiamo cercato di stimolare l'assessore affinché lo Stato erogasse appunto questo riparto che spetta la nostra regione e lui sembra dalla nostra parte, infatti ci ha promesso che cercherà degli incontri con lo Stato affinché venissero erogati questi importi. Io sono il coordinatore del collegio Renato Dell'Andro e la situazione in questo collegio diciamo essendo appunto coordinatore posso vedere con i miei occhi le varie situazioni ci sono ragazzi che aspettando questi secondi scorrimenti sono costretti a pagare rette mensili e anche la mensa, essendo diciamo loro ancora idoni pagano esattamente 50 euro al mese e 4 euro di mensa ed essendo appunto facendo domanda alla regione Puglia e quindi diciamo alle borse di studio si trovano in situazioni familiari non ottime da punto di vista economico quindi ciò che noi chiediamo appunto è che la regione stimoli lo Stato affinché venissero erogati questi soldi e cerchiamo diciamo anche una presa di coscienza per quanto riguarda sia lo Stato che la regione. Bene ci fermiamo, breve pausa pubblicitare, l'estate con noi tra pochissimo commenteremo i principali fatti di questa giornata con il capocronista della Gazzetta del Mezzogiorno Carmela Formicola tra poco. Eccoci ancora qui in diretta, io saluto subito il capocronista della Gazzetta del Mezzogiorno Carmela Formicola con cui commenteremo i principali fatti di questa giornata. Non tanto belli, come sempre. Allora, non so se siamo pronti per il nostro collegamento, oggi siamo tornati sul luogo dei tumulti di ieri sera sul lungomare nei pressi del Ciringuito, tali abusivi, insomma ormai tutti conoscete la storia per andare a vedere che cosa sta accadendo oggi all'indomani. Allora io mi collego subito con la nostra Barbara Cirillo, inviata di questa sera per noi. Barbara, buonasera. Buonasera Alessandra, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Sì, siamo proprio qui nel luogo dove ieri intorno alle 23 è scoppiata una vera e propria guerriglia urbana tra gli abusivi, i venditori abusivi e le forze dell'ordine qui schierate che anche questa sera non fanno sentire la propria mancanza. Abbiamo raccolto un po' di testimonianze, c'è ancora tanta rabbia, soprattutto tra i commercianti. Molti hanno anche paura di parlare, però ci hanno detto che proprio qui alle spalle di questo locale è un noto luogo di aggregazione, soprattutto dei giovani baresi. Ieri appena è iniziato tutto molta gente si è rifugiata proprio all'interno del locale, sono state sbarrate le porte e giustamente il gestore mi ha detto di essere molto arrabbiato per il fatto che poi è stato costretto a chiudere il locale per cause di forza maggiore, ma soprattutto per cause di sicurezza. E poi tantissimi che abbiamo sentito proprio qui sul lungomare di Bari ci hanno raccontato di aver visto gente spaventata, donne anche svenire per la paura di quello che stava accadendo. Persino un signore ci ha testimoniato, ci ha portato la sua testimonianza, aveva la moglie incinta e davvero ha rischiato grosso. Noi continueremo a raccogliere le testimonianze proprio qui il giorno dopo la guerriglia urbana di San Nicola, ci ritroviamo tra pochissimo. Grazie Barbara, un sentimento di paura che molti cittadini baresi ieri hanno avvertito. Per citare le dichiarazioni di De Caro Carmela, ha detto il sindaco, ieri è andata in scena la guerra tra gruppi criminali e lo Stato, in questo caso ha vinto lo Stato, gli fanno ecco anche le parole del questore che ha detto che stanno ricostruendo attraverso anche le telecamere di videosorveglianza tutti quei momenti di quella guerriglia quasi a dare un avvertimento, insomma chi ha sbagliato avrà vita breve. Sì, in realtà non dovremmo scoprirlo oggi, non dovremmo scoprirlo in un episodio, in un momento come in realtà la festa paternale che è un momento bellissimo per tutta la città, non dovremmo scoprirlo oggi che siamo sotto l'asseio della criminalità organizzata, non dovremmo scoprirlo oggi che ci sono interi territori nelle mani del clan, Bari Vecchia, Iapigia, San Pasquale, Carrassi, questa è una realtà con la quale dobbiamo fare i conti, facciamo i conti e quello che ci vuole ovviamente non è solo la repressione, c'è bisogno di una rivoluzione culturale molto forte per sconfiggere questa piaga della mafia che è dentro Bari, non lo possiamo più negare insomma. Ecco Carmela, l'episodio di ieri, anche per come è stato gestito in qualche modo queste persone, pur nella loro illegalità, hanno voluto quasi affrontare e sfidare anche le forze dell'ordine, può essere lo spartiacque tra il passato e il futuro, fatto di una maggiore consapevolezza di legalità? Beh, De Caro dice proprio questo, De Caro dice la città sta alzando la testa, si sta riprendendo e sta dando una risposta molto forte e è vero, siamo tutti assolutamente consapevoli di questo. Allora, vediamo se siamo pronti per un nuovo collegamento con la nostra Barbara Cirillo in diretta del Lungomare, non so se Barbara ci può sentire, come vi aveva già pronunciato nel servizio, insomma con grande difficoltà chi oggi è tornato per così dire alla normalità si espone perché la paura purtroppo è un sentimento con il quale molto spesso dobbiamo convivere. Io riproporrei a questo punto le parole del questore, se possibile chiedo alla regia, nell'intervista realizzata da Serena Russo, l'intervista al questore Carmine Esposito che in qualche modo dà la sua lettura di quanto accaduto ieri, un po' minimizza sulla lotta tra gruppi criminali è stato però in qualche modo ha lanciato un avvertimento come dicevamo prima, cioè chi ha commesso dei reati sarà presto punito. Allora non so se siamo in grado da regia di inviarvi questo contributo, ecco lo andiamo a sentire, c'è l'intervista al questore Carmine Esposito che poi tra l'altro ha rilasciato delle dichiarazioni in giornata e poi anche alcune dichiarazioni di alcuni dei commercianti che invece legalmente hanno partecipato al villaggio del gusto. Allora, lo sentiamo. Le forze di polizia non si sono lasciate intimorire, non hanno, come dire, con un intervento sicuramente calibrato sono riusciti a gestire una situazione sicuramente difficile e che ha visto poi la conclusione nell'arresto di uno dei dimostranti, uno dei fascinorosi peraltro con precedenti specifici, il fermo di un'altra persona con attività ancora in corso per la sua identificazione. Il sindaco ai nostri microfoni ha dichiarato quella di ieri non è stata una guerra tra la nona e gli abusivi, lasciando intendere che dietro c'è l'ombra dei clan. Guardi, io penso che non è una guerra questa. Il sindaco riafferma un principio sacrosanto che la legalità non può essere negoziata, non esiste una negoziazione sul rispetto della legge. La legge ovviamente va rispettata, va adeguatamente, come dire, anche interpretata in buona parte, si potrebbe dire, ma quello che è la violazione della legge non può essere consentito. Bene, insomma, avete sentito le dichiarazioni del questore che quanto dicevamo prima. Intanto il capoclonista della Gazzetta del Mezzogiorno, Carmela Formicola, si scusa però per impegni dovuti al lavoro. Purtroppo il nostro lavoro è così, ci ha dovuto abbandonare senza salutarci, quindi me ne farò carico io di salutarvi a nome di Carmela Formicola. Non so se la nostra Barbara Cirillo è pronta per collegarsi nuovamente con noi. Ve lo ricordo, siamo in diretta dal lungomare di Crolla Lanza, nei presti del Ciringuito, dove è avvenuto a ieri lo scontro, la guerriglia tra abusivi e forze dell'ordine. Non so se siamo in grado di collegarci con la nostra Barbara Cirillo, anche se rivede un movimento perché probabilmente stanno raggiungendo altri punti più significativi e più sensibili rispetto alla rappresaglia venuta a ieri. Allora facciamo in questo modo, ci lasciamo. Breve pausa pubblicitaria, rientro, nuovi collegamenti con il nostro live e un'altra parte del nostro telegiornale. A tra poco. Grazie a tutti. Pronti a colpire Porto, Aeroporto e Ipercop erano gli obiettivi sensibili nel mirino dei presunti terroristi afghani fermati dalla DDA barese. Le accuse si basano su foto filmati, ma al momento non ci sarebbe alcuna intercettazione. Il procuratore capo Volpe non ci risulta assolutamente che sia imminente un attentato in Italia. Terrorismo, quel selfie con De Caro sul cellulare di uno dei fermati spunta una fotografia con il primo cittadino scattata durante la marcia degli scalzi organizzata in favore degli immigrati. Il nostro focus sull'operazione della DDA di oggi. Guerriglia sul lungomare, abusivi sotto scacco, al vaglio delle forze dell'ordine, la posizione di molti dei partecipanti agli scontri di ieri. Il questore promette, arriveremo alla denuncia di reati piuttosto gravi. Il nostro live dalla zona dei tumulti. SOS, borse di studio, protesta degli studenti per i ritardi nell'erogazione. Emiliano promette, chiederemo risposte al governo. Eccoci ancora qui in diretta. Ripartiamo dal nostro live. Siamo in diretta da lungomare con la nostra Barbara. Barbara, vengo da te. Sì, Alessandra, bocche cucite. Nessuno oggi vuole parlare. Tutti ci dicono che vogliono buttare alle spalle tutto quello che è accaduto ieri, ma sono certa che molti cittadini invece non lo dimenticheranno. Però come potete vedere, vi mostriamo queste immagini. Non ci sono fornacelle, non ci sono qui, non ci sono in piazza Diaz. Questo è un luogo dove spesso di sera c'è un'aggregazione massiccia di braci. Invece questa sera nulla, nulla di tutto questo. C'è una strana calma piatta e a quanto pare c'è anche poca gente, però la risposta dei ragazzi c'è, la risposta dei giovani baresi c'è. Arrivano la spicciolata, è un luogo meno affollato del solito, sarà un po' per il timore, sarà un po' perché non si riesce a dimenticare quello che è avvenuto ieri. Allora noi andiamo a sentire proprio le testimonianze dei giovani cittadini baresi. Io ti ricedo la linea tra pochissimo. Grazie Barbara. Tra poco noi andiamo avanti. Penificavano attentate in luoghi sensibili di varie altre città europee, carabinieri del comando provinciale di Bari e del Ross hanno fermato tre soggetti di nazionalità afghana più altri due che favorivano la tratta di persone. I dettagli nel servizio di Roberto Maggi. Pianificavano attentati terroristici a Bari e fornivano sostegno logistico per l'immigrazione di clandestini. Tre soggetti di nazionalità afghana sono stati fermati dal personale del comando provinciale carabinieri del Ross. L'accusa principale di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico. Assieme a loro altri due giovani di nazionalità pakistana e afghana che collaboravano in vario modo alle attività del gruppo. Il provvedimento scaturisce da un'indagine del nucleo investigativo e della sezione anticrimine avviata lo scorso 16 dicembre. Una pattuglia della compagnia di Bari San Paolo aveva notato quattro persone, due delle quali ospiti del CARA, che effettuavano riprese in un affollato centro commerciale barese. L'attività investigativa ha permesso di accertare come uno dei soggetti regolarmente in Italia, mantenesse costanti collegamenti telematici con siti segreti inneggianti alla Gihad. Dall'esame successivo degli smartphone dei fermati emergeva corposo materiale fotografico di siti sensibili della città come l'aeroporto o foto con armi, assieme ad essi file musicali comunemente usati dai terroristi per la preparazione al martirio. Disponevano inoltre di numerosi contanti utilizzati per spostamenti frequenti in aereo verso le principali capitale europee. A coordinare l'indagine è stata la procura distrettuale antimafia nella persona del sostituto Roberto Rossi. Queste indagini sono molto complicate perché bisogna stare attenti, in una parte, a non vivere sul sospetto. Delle persone fanno delle fotografie non perché sono pakistani o afghani, sono dei disonesti. Però il problema è questo, che partendo da tali elementi poi siamo andati a verificare all'interno dei telefonini e trovevamo quasi solamente foto nelle quali venivano mostrati. E il porto di Bari, e l'aeroporto di Bari, e il porto di Londra, e i centri commerciali, cioè foto dove i turisti diciamo in genere non fanno foto. Normalmente le indagini in materia di terrorismo, e a Bari ne abbiamo diverse purtroppo, parlo di terrorismo internazionale, nascono da segnalazioni che i servizi fanno alla polizia giudiziaria che poi informa la procura distrettuale antiterrorismo e da qui nascono le attività investigative. In questo caso non c'è stato alcun intervento e nessun input da parte dei servizi. Il merito di questa operazione va ascritto soltanto ai carabinieri di Bari. Saranno celebrate giovedì a Bari e Milano le udienze di convalida dei tre fermi eseguiti oggi su disposizione della DDA di Bari. Uno per terrorismo internazionale, due per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. In particolare saranno interrogati a Bari il 23enne afgano Akim Nasiri, accusato di terrorismo internazionale, e il 29enne afgano Gulistan Ahmadai, accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Nella più ampia indagine della magistratura a Bari e su una presunta cellula di terroristi si ipotizza che i tre fossero pronti a preparare attentati in Italia e in Inghilterra. E sull'operazione interviene anche l'onorevole Alberto Losacco, rafforzare tutti i dispositivi di sicurezza e valutare l'opportunità di un ulteriore incremento degli organici delle forze dell'ordine e della magistratura in servizio sul territorio pugliesi per le attività di antiterrorismo. Lo chiede il deputato del PD Alberto Losacco con un'interrogazione al Ministero dell'Interno. Secondo la DDA l'organizzazione predisponeva, dice l'onorevole Losacco, mediante la preventiva ispezione dello stato dei luoghi attentati terroristici presso aeroporti, porti, mezzi delle forze dell'ordine, centri commerciali, alberghi, oltre che altri imprecisati attentati terroristici in Italia e in Inghilterra. È evidente che tali premessi necessitano di un'adeguata risposta nel rafforzamento dei protocolli di sicurezza da adottare sul territorio pugliese ed in particolare a Bari. Cambiamo argomento, il Consiglio Comunale approva il piano triennale delle opere pubbliche, 384 diversi interventi previsti nel triennio, di cui 133 solo nel primo anno. L'importo complessivo del piano ammonta a 1 miliardo 122 milioni 137 mila euro. Tra le opere pubbliche più significative che saranno realizzate nel 2016, il polo bibliotecario, il parco della ex Caserma Rossani, la bonifica e la messa definitiva in sicurezza delle ex Fibronit. Oltre alla riqualificazione del parco e radio di largo 2 giugno. Colleghiamoci nuovamente con la nostra Barbara Cirillo che vedo in compagnia di alcuni ospiti. Barbara vengo da te. Sì Alessandra abbiamo detto poche bracci ma alcuni ragazzi non tantissimi come di solito. Ragazzi voi ieri c'eravate, che ricordo avete? Sì allora io ero in piazza Ferrarese e naturalmente all'improvviso durante gli spari abbiamo visto gente correre e naturalmente ci siamo preoccupati anche alla luce del fatto che già dalla mattina c'erano stati dei problemi in città, degli scontri e naturalmente ci siamo spaventati anche perché c'erano voci discordanti su ciò che era successo tra spari o risse. Ecco il giorno dopo oggi qual è la reazione dei cittadini? C'è meno gente in giro, soprattutto meno gente qui? Insomma è un luogo di aggregazione questo? Bene sì, oggi sicuramente la città comunque porta i segni di quella che è stata l'esperienza di ieri sera, che è stata comunque un'esperienza molto violenta e la violenza di ieri va comunque denunciata. Oggi però la città diciamo nutre una voglia di riscatto rispetto a quello che è stato l'episodio di ieri sera. Infatti è stata promossa un'assemblea pubblica in piazza Cesare Battisti alle 18.30 da zona Franca, a cui hanno già aderito Libera, la CGL Bari, Act Bari e BAM dove discuteremo con tante altre realtà che nel sociale fanno antimafia per poter insomma in tutti insieme costruire un piano d'azione condiviso che coinvolga la cittadinanza e che insomma faccia in modo che un episodio del genere non trovi più legittimità in città. Fatto sta però che i cittadini, soprattutto i giovani cittadini baresi devono rispondere, bisogna continuare a frequentare i luoghi come questi? Sì, diciamo che effettivamente io soprattutto che faccio parte di una comunità che è quella studentesca, penso che proprio gli studenti stessi debbano essere coloro che promuovendo un po' quella che è una cultura del vivere, quelli che sono gli spazi pubblici, i luoghi pubblici, quindi ridare vita anche un po' a tutta una serie di contesti che magari ad oggi vengono in un certo senso emarginati, possono in un certo senso recuperare questi spazi. Penso ad esempio alle stesse piazze che sono nei pressi dell'università che sono state militarizzate, evidentemente senza nessun tipo di risultato benefico rispetto alla gestione dell'ordine pubblico e soprattutto rispetto a chi le vive poi sostanzialmente perché non si è affrontato il problema sociale che è alla base del disagio di chi poi effettivamente si trova a compiere dei reati, quindi senza interrogarsi sulle cause per cui una persona si trova costretta in un certo senso a quelle condizioni. Grazie ragazzi, Alessandra io ti annuncio nel frattempo che comunque c'è un presidio fisso delle forze dell'ordine proprio qui accanto al Ciringuito, per ora è tutto, io ti restituisco la linea augurando a te e a tutti i nostri telespettatori buona serata. Grazie Barbara, noi andiamo avanti e parliamo di ritardi nell'erogazione delle borse di studio e la protesta di studenti scendono in piazza, un corteo di universitari ha raggiunto il palazzo della regione per incontrare il presidente Emiliano e l'assessore Sebastiano Leo che annunciano e chiederemo risposte al governo, intanto gli studenti continuano a pagare rette e mense. Sentiamo. Da più di un mese ci sono ragazzi universitari che hanno vinto borse di studio ma che ancora non le hanno viste, oggi avete protestato, basta. Sì, praticamente sotto un comitato chiamato appunto Uniti per il diritto allo studio universitario, i ragazzi dell'Università di Bari, precisamente tutti i beneficiari di servizi ad ISO, si sono stancati e hanno deciso di far sentire la propria voce e attraverso un corteo, una manifestazione, una mobilitazione ci siamo mossi verso la sede della regione per protestare ad alta voce per i nostri diritti che ci sono stati, insomma, sono venuti a mancare da più di un mese a questa parte. Lì avete incontrato l'assessore al diritto allo studio Sebastiano Leo, che cosa vi ha detto, qual è stata la sua risposta? Allora, noi innanzitutto abbiamo cercato uno stimolo, abbiamo cercato di stimolare l'assessore affinché diciamo lo Stato erogasse appunto questo riparto che spetta la nostra regione e lui sembra dalla nostra parte, infatti ci ha promesso che cercherà degli incontri con lo Stato affinché venissero erogati questi importi. Io sono il coordinatore del collegio Renato Dell'Andro e la situazione in questo collegio, diciamo, essendo appunto coordinatore posso vedere con i miei occhi le varie situazioni. Ci sono ragazzi che aspettando questi secondi scorrimenti sono costretti a pagare rette mensili e anche la mensa. Essendo diciamo loro ancora idoni, pagano esattamente 50 euro al mese e 4 euro di mensa. Ed essendo appunto, facendo domanda alla regione Puglia e quindi diciamo alle borse di studio, si trovano in situazioni familiari non ottime da punto di vista economico. Quindi ciò che noi chiediamo appunto è che la regione stimoli lo Stato affinché venissero erogati questi soldi e cerchiamo, diciamo, anche una presa di coscienza per quanto riguarda sia lo Stato che la regione. Ancora non è possibile bere l'acqua nell'abitato di Casa Massima, consentiti invece altri usi. Lo rende noto è un comunicato di Acquedotto Pugliese nel quale si sottolinea che proseguono le attività di campionamento in rete per riportare la situazione alla normalità. La debole contaminazione dell'acqua distribuita nell'abitato causata da una lieve concentrazione batterica non conforme agli standard di legge per le acque potabili era dovuta, si legge nella nota, ad una delle due condutture aduttrici che alimentano l'abitato probabilmente interessata da una lesione. Proseguono gli accertamenti per il definitivo riscontro esclusa la contaminazione da reflui di natura fognaria perché l'acqua possa essere dichiarata nuovamente potabile, si legge ancora, bisognerà attendere gli esiti definitivi delle analisi che richiederanno qualche giorno. E parliamo del diabete mellito, definita una malattia sociale, se ne è parlato nel corso di un convegno organizzato dall'Associazione Mogli Medici Italiani nel Circo L'Unione di Bari. Vediamo. Professore, diabete e vasi sanguigni? Eh sì, il diabete è una delle cause più frequenti di quella che noi, la patologia è più frequente, c'è la cardiopatia ischemica, c'è la cardiopatia in cui non arriva abbastanza sangue al cuore ed è causa di due quadri clinici fondamentali, c'è l'angina, il dolore toracico transitorio che non dà origine a nessuna sequela e l'infarto acuto del mio cardio che è lo stesso fenomeno proseguito da morte cellulare, quindi da una quota di cuore che non si contrae più. Il diabete purtroppo è una delle cause più frequenti di questa patologia, è il trattamento precoce, l'individuazione precoce del paziente e altri trattamenti come l'angioplastica o la cronografia per fare la diagnosi e quindi poi fare il trattamento di un invasivo rappresentano i mezzi più importanti per ridurre sia la patologia sia la mortalità. La prevenzione è ridurre il diabete? Sì, la prevenzione è mantenere la glicemia e i valori perfettamente normali, se noi manteniamo i valori della glicemia intorno ai 100, l'emocomia glicata tra 6 e 5, 6 e 6 e 5, questo è il mezzo più importante per ridurre la complicanza. Naturalmente dobbiamo anche ridurre gli altri fattori di rischio che sono l'obesità e l'ipertensione e naturalmente il fumo. Se facciamo queste cose tutte insieme portano un notevole miglioramento della patologia. Torna a Bari la primavera mediterranea, il giardino dei sensi e il tema della quinta edizione che colorerà di verde la città dal 12 al 15 maggio. Vivaisti, architetti, artisti e studiosi saranno impegnati in un'azione di trasformazione e rilettura degli spazi urbani in chiave green. Nel progetto offrirà ai cittadini una versione insolita, inedita e ideale degli spazi urbani, le strade divengono giardini, vere e proprie installazioni artistiche a tema. Giardini che diventano spazi aperti all'espressività, alla creatività, alla cultura grazie ad un programma di eventi, convegni e workshop tematici. Bene, era la nostra ultima notizia di questo terzo spazio, adesso ci fermiamo, breve pausa pubblicitaria, tra pochissimo con il criminologo, l'avvocato Nunzio Smacchia parleremo, cercheremo di leggere i dettagli di questa operazione antiterrorismo condotta dalla DDA. A tra poco. Amici Trebi Meteo, bentornate a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di mercoledì. Iniziamo come sempre dall'Europa, ancora alta pressione alle medie e alte latitudini, tra l'altro anche con temperature molto piacevoli, invece condizioni di maltempo sul Mediterraneo centrale Italia compresa. Infine un'occhiata al Sud Italia, dove qual tempo ancora per il momento tiene, non mancherà qualche nuvola di passaggio, in Sardegna qualche goccia di pioggia, ma temperature molto molto miti. Con questo è tutto, per dettagli come sempre vi aspettiamo su Trebi Meteo. Riccoci ancora qui in diretta, io saluto subito l'avvocato Nunzio Smacchia, criminologo ed esperto di terrorismo internazionale, buona sera e benvenuto. Grazie, buonasera a tutti. Con lei cercheremo di dare una lettura dell'operazione di oggi o partirei subito da un dato. Intanto un grandissimo applauso ai carabinieri e alla magistratura che è riuscita a scoperchiare questo vaso di Pandora, abbiamo capito che è l'emergenza terrorismo che fino ad oggi magari vedevamo un po' lontana, oggi invece ci riguarda da vicino, visto che sono stati ritrovati alcune fotografie, alcuni filmati che riprendevano porto, aeroporto e l'ipercoppo come obiettivi sensibili su cui probabilmente si stava progettando un attentato. Avvocato. Sì, innanzitutto bisogna fare un applauso ai carabinieri, alla forza dell'ordine che sono intervenuti e che sono riusciti a individuare quei soggetti, quelle persone, diciamo, tra virgolette, sospette. Poi, indagini successive hanno messo in luce, in effetti, attraverso la verifica dei telefonini e di altri mezzi, diciamo, tecnologici, che erano state fatte delle foto, erano state inquadrate dei posti, quindi posti abbastanza nevralgici, tra l'altro, aeroporto, supermercati, hotel, eccetera, che sono proprio quelli che, diciamo, i terroristi ricercano, ricercano in maniera costante perché attraverso questi posti possono infliggere e inculcare quella paura, quel terrore, perché colpendoli fanno dei danni ingenti, devastanti, non soltanto di natura materiale, ma anche per quanto riguarda le persone, quindi materiale o umano. Quindi è importante. Il fatto che poi sia avvenuto a Bari, questo, diciamo, può prestarsi a diversi tipi di lettura. Primo perché magari è una città di passaggio, una città che, diciamo, si è molto evoluta sia per quanto riguarda i mezzi di trasporti, sia per quanto riguarda proprio la concentrazione di soggetti rivenienti dal fenomeno dell'immigrazione e dal fenomeno tipico proprio del terrorismo. Però bisogna anche stare attenti a non confondere i due fenomeni. Una cosa è l'immigrazione e una cosa è il terrorismo. Di solito il terrorismo non va a reclutare persone che sono, diciamo, tra gli immigrati perché sarebbero facilmente riconoscibili o individuabili. Quindi evidentemente è attraverso altre forme di reclutamento che vanno alla ricerca di persone, di soggetti, di individui da utilizzare per gli attentati. Quindi bisogna essere molto ma molto prudenti e non fare tutto un'erba, un fascio in sostanza perché non è detto che chi è immigrato è poi necessariamente o addirittura sospettato di terrorismo o di essere un terrorista. Questo no. Cerchiamo di essere, diciamo, abbastanza... Per dare un'informazione anche corretta. Corretta, esatto. Da resto l'ha fatto anche il sostituto procuratore Rossi in conferenza stampa dicendo in qualche modo non alimentiamo la logica del sospetto. Andiamo a sentire il primo stralcio del sostituto procuratore e poi lo commentiamo in studio con l'avvocato Smacchia. È un'indagine fatta sulla strada e queste indagini sono molto complicate perché bisogna mettere, bisogna stare attenti in una parte a non vivere sul sospetto. Delle persone fanno delle fotografie, non perché sono pakistani o afghani, sono dei disonesti. Però il problema è questo, che partendo da tali elementi poi siamo andati a verificare all'interno dei telefonini e trovevamo quasi solamente foto nelle quali venivano mostrati il porto di Bari, e l'aeroporto di Bari e il porto di Londra e i centri commerciali, cioè foto dove i turisti diciamo in genere non fanno foto e quindi si evidenzia come queste fotografie da essere fotografie apparentemente senza significato legate insieme assumono invece un significato estremamente forte che è quello di una, tra virgolette, verifica di obiettivi sensibili. Che da questa verifica ci possa essere o no attentati, questo è un ulteriore passo, ma per la nostra legge questo è già sufficiente per dire che c'è un pericolo e questo pericolo è punito nel nostro ordinamento. Ecco, Avvocato Smacchia, a livello di legislazione, visto che molto spesso questi elementi sono contenuti come per esempio fotografie filmate, sono stati trovati anche dei link di canzoni che neggevano alla Jihad, sono contenuti all'interno di dispositivi elettronici, ad esempio lo sentiremo nel prossimo stralcio, un iPhone non è stato violato perché è probabilmente particolarmente Cryptout, a livello di legislazione e anche di mezzi, siamo sufficientemente all'avanguardia e riusciamo a stare al passo con l'evoluzione tecnologica che spesso rende un po' più difficile l'accesso ai dati? Sì, io credo di sì, c'è proprio un apparato delle forze dell'ordine che è espressamente specializzato in questo tipo di indagine, di verifica di tutto ciò che è di natura tecnologica, quindi sicuramente tutto quello che passa attraverso gli oggetti di questa natura viene posto al vaglio di queste autorità che sono preposte espressamente per questo tipo di indagine. Dice bene il dottor Rossi, il procuratore, che bisogna stare attenti e non equivocare, perché è vero sì che si possono fare delle foto, ma non è detto che queste foto siano poi utilizzabili o utilizzate direttamente dalle persone che lo hanno fatto e che sono state trovate in possesso di quegli oggetti tecnologici, perché come tutti sappiamo si possono inviare queste fotografie con tutte le app e tutti i sistemi diciamo online e quindi essere soltanto, fungere soltanto da tramite, non so, poi quelli che eventualmente ipoteticamente dovrebbero intervenire o realizzare attentati sono in tutt'altro posto nel mondo, non so se è chiaro, quindi questi se vogliamo possono essere soltanto delle persone che sono in avance scoperta se vogliamo. Diciamo che c'è una specie di reclutamento come dire marginale, periferico, che non è di quelli veri, il reclutamento vero e proprio che consiste in altri sistemi e con altre diciamo strategie. quindi è giusto anche ponderare e cercare di controllare questi fenomeni perché possono essere inviati molte fotografie di tanti posti strategici e anche se poi magari non sono quelle persone che hanno scattato quelle foto ad essere i protagonisti diciamo di eventuali attentati. Non so se è chiaro. Assolutamente chiaro. Andiamo a sentire il secondo stralcio del sostituto Rossi e poi lo commentiamo insieme. Altro elemento forte nell'indagine è che la maggior parte delle prove le abbiamo trovate all'interno degli smartphone o dei dispositivi elettronici. Va detto che anche qui abbiamo trovato la stessa difficoltà che ha trovato l'FBI perché abbiamo sequestrato un iPhone che non siamo riusciti a violare. Abbiamo provato a essere più bravi ma ahimè non ci siamo riusciti. E questo è un vero problema che va a posto effettivamente perché l'equilibrio tra la tutela della privacy e la tutela della persona umana eccetera è un problema serio che bisogna porre a livello internazionale. Quali sono gli elementi presenti all'interno soprattutto dei dispositivi elettronici? Come dicevo fotografie relativi a obiettivi sensibili, fotografie di armi tra cui uno dei soggetti con un'arma in mano, una mitragliatrice americana, un M16 se non ricordo male, una serie e queste molto interessanti, di canti che in realtà sono canti di preparazione al martirio e quindi sono una forma di addestramento, bisogna entrare in quel tipo di mondo. L'addestramento del kamikaze avviene attraverso questa tipologia di preparazione. Cioè bene sostituto proprietario bisogna entrare in questo tipo di mondo per capirlo e per capirne eventualmente anche i punti deboli. Conosciamo i punti deboli. Un minuto, Avvocato Smacchia. Certo, ma è difficile trovare il punto debole in questa catena o nella strategia del terrorismo attuale moderno. È difficile. Secondo me è solo un fatto culturale, cioè utilizzare le stesse armi che utilizza il terrorismo islamico o di altra natura o religione che sia e cercare di infondere inculcare nella gente, nell'opinione pubblica, concetti, ideologie diverse. Quindi è un fatto soltanto culturale. Colpirli con le loro stesse armi. Loro si servono del web, della rete, di tutto ciò che corre online. Ebbene fare lo stesso tipo di propaganda sempre con questi mezzi, al contrario. E quindi cercare di recuperare, da un punto di vista, se vogliamo, della convinzione, della ideologia, queste persone che evidentemente vanno verso il terrorismo perché sono indecise. Quindi se sono indecise è possibile recuperarle, da questo punto di vista. Siamo di fronte ad un terrorismo che, come si vede, è glocale, non è più internazionale, ma si svolge in certi posti, colpisce come un morde e fuggi in sostanza. Poi diventa internazionale. Diffondere la paura, il terrore nella gente, nell'opinione pubblica. Questo è cercando di dare più colpi possibili, sia di natura materiale che di natura, diciamo, umana. Questo è in sostanza. Purtroppo ne torneremo a parlare e purtroppo, dico perché lo confermano, purtroppo anche faronti inquirenti. Non mi piace che ringraziare l'avvocato Nunzio Smacchia, criminologo ed esperto il terrorismo internazionale. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie di tutto. Buonasera. E grazie a voi per averci seguito. L'appuntamento, come sempre, torna più tardi. Arrivederci. Grazie a voi. Grazie a voi.